Oggi c'è una sorpresa per voi! Questa è arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Umbretta su Arte per te Oggi un video diversissimo dal solito e speciale Vi ricordate la penna che ho comprato Zubangood? Quella per la penna 3D insomma? Bene, da quel momento Bangood mi ha continuato a seguire e a inseguire per propormi un giveaway da fare per farvi un regalo Io ho detto sì, però ho detto sì dopo Natale perché prima volevo farvi il mio di regalo Bene, Natale è passato, le feste sono finite Adesso siamo pronti per lanciare questo giveaway in collaborazione con Bangood Bangood è un sito di questi orientali che sono un serbatoio di tantissimi venditori che propongono merci differenti Io tra tutto quello che c'era là dentro ho scelto 4 cose da regalare a 4 di voi Vi metto il link di queste 4 cose che voglio regalarvi nel box informazioni Sono 4 premi, di diverso anche valore economico ma tutti utilissimi e tutti inerenti all'arte Non vi dico cos'è, andatelo a scoprire da soli cliccando qua sotto e seguite il regolamento che c'è nel box informazioni e tra di voi ci saranno 4 sorteggiati che vinceranno ognuno di voi uno dei premi che è appunto elencato è il link di qua sotto E' semplicemente una sorpresa, una collaborazione in cui io fungo, sono semplicemente un tramite tra Bangood e voi mi faceva piacere che anche voi poteste utilizzare una delle collaborazioni che di solito arrivano a noi youtubers per prendere oggetti anche se io molto spesso questi oggetti che mi arrivano poi li giro a voi però in questo modo neanche mi arrivano, arrivano direttamente a voi e poi voi mi direte come sono queste cose sono cose molto carine, anche la cosa più semplice è veramente veramente utile ve lo prometto, ho scelto con molta cura quindi tutta roba per disegnare la trovate tutta qua sotto nel link mi raccomando seguite le istruzioni dopodiché in bocca al lupo e vinca il più fortunato, anzi vinca i 4 più fortunati spero che questa cosa vi faccia contenti, io sono contenta se posso mandarvi qualche cosina di extra e noi ci rivediamo sempre qua al prossimo video da ombretta e d'arte per te è tutto ciao e in bocca al lupo ragazzi